Cosa ci manca? Ci manca di vedere adesso l'ultima combinazione che è quella di avere l'inserzione di corrente e il prelievo di corrente. In questo caso quindi la situazione è tutta un po' già vista perché in pratica abbiamo un'inserzione di corrente e quindi portiamo allo stesso ramo, qua mettiamo un generatore di Norton come generatore d'ingresso. Quindi questa è la situazione all'inserzione e il prelievo è un prelievo di corrente quindi la corrente d'uscita finisce nel carico e poi finisce all'ingresso della rete di reazione. Questa è la situazione. Chiaramente come abbiamo già visto qui che cosa succede? Quindi le quantità xs, x con i ed x con f dell'inserzione sono tutte correnti e la quantità d'uscita è anch'essa una corrente. Per quanto riguarda la rete del beta è abbastanza facile vedere che cosa abbiamo perché in pratica abbiamo in ingresso quindi una corrente, prendiamo la porta, chiamiamo V la tensione alla porta e una corrente d'uscita e quindi scriviamo la matrice. Di nuovo la grandezza che inseriamo è una corrente, la grandezza che prendiamo è una corrente, quindi sono le prime due e qui avremo Vf e qui avremo V come abbiamo sempre fatto. Qui c'è beta, quindi beta per definizione è If corrente d'uscita diviso corrente d'ingresso calcolata quando Vf è uguale a 0. Questa qui, il secondo termine, è l'inverso di un'impedenza, è l'inverso dell'impedenza d'uscita perché ovviamente la R o beta sarà Vf diviso If quando Iu è uguale a 0. R i beta sarà questa perché mi lega V a Iu e V su Iu quando Vf è uguale a 0. ma insomma poi approssimiamo questo con uno 0, beta è unidirezionale. E ora ci viene un po' automatico, quindi possiamo andare effettivamente abbastanza veloci. Notate che le definizioni di beta, R beta, R o beta sono diverse dagli altri casi perché abbiamo cambiato le variabili di ingresso e di uscita. Possiamo rappresentare il circuito equivalente Ora che abbiamo tutto, chiaramente avrò la prima equazione che mi dice che la corrente d'uscita è somma di due correnti somma di due termini, quindi ho due rami in parallelo avrò If che è la somma di una corrente che è beta Vf quindi è un generatore di corrente eh no, è beta Iu un generatore di corrente controllato da corrente beta Iu più Vf su R o beta e quindi questa è una resistenza R o beta perché? perché Vf è proprio questa tensione qua ok, quindi questa è la prima equazione la seconda equazione è la solita quella che troviamo sempre mi dice che V è R i beta per Iu allora adesso per calcolare la funzione di trasferimento sostituiamo il circuito equivalente del beta al blocco beta e guardiamo il tutto diciamo, sono più o meno 4 volte conti simili però essendoci un minimo di differenze poi conviene guardarli insieme allora questo è I.S questo è R.S questo è la rete di amplificazione ora qui metto la rete di beta quindi qui abbiamo R o beta e in parallelo no, aspettate vi ho detto facciamo un'inizio di corrente quindi qui è così stavolta non ne sono accorto io questo è beta per Iu ok, e questo qui è Ii questa è una massa e questa è una massa ok, da quest'altra parte abbiamo un prelievo di corrente quindi qui dobbiamo far così R i beta R l questa è la Iu e basta allora di nuovo A con E è definito come Iu su I.S quando beta è uguale a 0 questa è la definizione di nuovo che cosa vuol dire anche questo modo di procedere l'avete già visto se beta è uguale a 0 Iu è uguale a A con E per I.S ma ovviamente siccome beta conta solo qui dentro dentro questo generatore controllato se beta è diverso da 0 nel caso più generale questo beta Iu finisce in parallelo a I.S quindi è come se avessi un unico generatore di corrente I.S più beta Iu quindi qui posso scrivere A con E che moltiplica I.S più beta Iu e questo mi consente di ricavare Iu su I.S perché poi faccio così e quindi posso avere A con F che questa volta è definito come il rapporto tra la grandezza d'uscita che è una corrente e la grandezza d'ingresso che è una corrente ed è uguale ad A con E diviso 1 meno beta con E quindi vedete alla fine 4 volte abbiamo trovato la stessa espressione ora lo ridico perché poi non basta mai ma insomma è la stessa espressione soltanto perché ogni volta beta e A con E sono definiti in modo diverso che se cambio circuito ottengo la stessa espressione vuol dire che questo cambiamento è assorbito da qualcosa altro quindi in realtà il cambiamento in questo caso è assorbito dalla definizione di beta e A con E ripeto è veramente solo una scelta didattica quello di dire faccio vedere la stessa forma perché consente di capire un po' meglio cosa succede allora A con E come si fa a calcolare facciamo il calcolo ormai siamo un po' abituati siamo anche un pochino velocizzati questo è RI e in uscita qui devo mettere Thevening quindi AVI ed R out ok quindi questo è il circuito calcolo di A con E ovviamente devo mettere beta uguale a 0 ok allora ora che succede I con I no I con I non mi serve mi serve V con I allora V con I è la caduta di tensione sul parallelo di RS RI e R o beta e la corrente che viene iniettata è soltanto IS quindi questo è IS per il parallelo di RS RI e R o beta questa espressione l'avevamo già trovata una volta che ho A conosco A per VI e quindi posso ricavare la corrente di uscita guardando la maglia di uscita cioè mi viene I con U è uguale ad da VI diviso R out più R L più RI beta quindi AE che è uguale a I U su IS quando beta è uguale a 0 lo tengo da qui perché prendo VI e lo sostituisco dalla prima nella seconda mi viene A che moltiplica al numeratore una resistenza che è la resistenza fatta dal parallelo delle tre resistenze che ho in ingresso e in uscita ho la serie delle tre resistenze che ho in uscita questa è quella allora adesso posso vedere l'effetto sulle impedenze allora RIF è uguale a VS su IS per RS che tende a infinito che è un generatore di ingresso e un generatore di corrente se è ideale vuol dire che RS tende a infinito allora questo l'abbiamo già calcolato una volta lo rifaccio rapido cosa devo fare devo tornare un attimo indietro guardare qua quindi qui che cosa ho VS è questo giusto quindi corrisponde a V devo fare IS più beta U per il parallelo delle tre giusto quindi IS più beta U per il parallelo delle tre RS parallelo RI parallelo RU beta ancora una volta RS lo tengo lì poi lo porto infinito dopo qui mi ricordo che U è uguale ad A con E diviso 1 meno beta con E per IS e quindi questo mi viene uguale a IS quando faccio il mio con il multiplo in questa parentesi mi viene al numeratore 1 meno beta con E più beta con E quindi rimane soltanto 1 quindi mi rimane IS diviso 1 meno beta con E per RS parallelo RI parallelo ROUT quindi VS su IS viene uguale a ovviamente RS parallelo RI parallelo ROUT diviso 1 meno beta con E ok? a questo punto posso calcolare RIF portando RS a infinito e quindi a numeratore rimane soltanto RI parallelo ROUT ok? e a denominatore siccome l'unica quantità che dipende da RS è A con E devo mettere al posto di A con E il limite di A con E per RS che è infinito ok? che facile che A con E l'ho scritto prima quindi è abbastanza facile da determinare ok? questo l'abbiamo già visto e l'abbiamo già trovato pari pari questo è il fattore di reazione mi ha detto una cosa ah ok questo qui ho copiato male questo è R-beta sì 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 questo è R-beta sì sì copiando dalla slide precedente è R-beta ok? correggiamo questo qui? è il parallelo ah è il parallelo ok va bene questo qui è la resistenza di ingresso della rete di A con E va bene? questa cosa qui l'abbiamo già trovata praticamente scritta nello stesso modo con definizioni leggermente diverse nel caso 2 quello con inserzione di corrente e prelievo di tensione questo invece è inserzione di corrente e prelievo di corrente quindi di nuovo la resistenza di ingresso dipende dal tipo di inserzione per la resistenza di uscita non vi sto a fare il conto perché è esattamente uguale a quello che abbiamo fatto un attimo fa devo fare di nuovo tensione di uscita a vuoto diviso corrente di uscita di cortocircuito è uguale a caso 3 quello in cui avevamo un prelievo di corrente e mi verrà di nuovo r i beta più r out per 1 meno beta a con e calcolata per r l uguale a 0 è esattamente come nel caso precedente di nuovo cambia soltanto la definizione di a con e ma il tipo di semplificazioni sono uguali ok quindi potete benissimo farlo giusto da soli come riprovo ok allora abbiamo visto tutti i 4 casi visto tutte le funzioni di trasferimento tutte le impedenze facciamo uno schema di riassunto finale e chiudiamo mettiamo a senso fare il riassunto finale perché si capisce bene che in pratica ripetiamo un sacco di volte le stesse considerazioni quindi noi abbiamo diversi tipi di inserzione diversi tipi di prelievo quindi qui c'è l'inserzione qui ci sono diversi tipi di prelievo qui c'è il tipo di reazione e la sigla che si usa di solito ora poi lo vediamo insieme qui c'è A con F e qui c'è RIF e qui c'è ROF allora abbiamo detto possiamo avere 4 situazioni diverse allora possiamo avere inserzione di tensione e prelievo di tensione la prima la seconda abbiamo visto inserzione di tensione prelievo di corrente la terza era inserzione di corrente prelievo di tensione la quarta era I I va bene ora tenete presente che quando faccio l'inserzione di tensione siccome metto in serie l'uscita della rete di reazione l'ingresso il generatore l'ingresso della rete di reazione si dice anche che faccio un'inserzione serie quando faccio un'inserzione di corrente siccome sommo due correnti sto mettendo due rami in parallelo in ingresso quindi si dice anche che faccio un'inserzione di tipo parallelo qui a seconda dei libri a seconda delle usanze si può chiamare inserzione di tensione corrente oppure inserzione serie o parallelo ed è bene avere il vocabolario completo per il prelievo è un altro discorso se faccio il prelievo di tensione vuol dire che metto in parallelo l'uscita della rete di azione il carico è l'ingresso della rete di reazione quindi il prelievo di tensione si chiama invece prelievo parallelo questa è la cosa che fa confusione dovete pensare al circuito per ricordare se è serio o parallelo il prelievo di corrente invece vi ricordate fa passare la stessa corrente dall'uscita della rete di azione nel carico e poi all'ingresso della rete di reazione quindi di fatto passando la stessa corrente in tre blocchi diversi ho una situazione di prelievo serie quindi viene chiamato serie vedete questa variazione di solito crea un pochino di confusione quindi detto questo il primo caso si chiama anche serie parallelo di reazione perché ho l'inserzione serie e il prelievo parallelo spesso si indica come reazione sp il secondo è una reazione SS avete capito un meccanismo in cui viene attribuito il nome il terzo è inserzione di tipo parallelo prelievo parallelo un PP e il quarto è un PS ok poi riassumiamo un po' tutto la funzione di trasferimento complessivo in tutti e quattro casi era uguale ad ci dava la stessa espressione A con F uguale ad A con E diviso 1 meno beta con E però tenete presente che sia in tutti e quattro casi beta e con E sono definiti differentemente e anche A con F è definito diversamente perché nel primo caso A con F è V su V S nel secondo caso A con F è I U su V S nel terzo caso A con F è V U su S e nel quarto caso A con F è I U su S quindi l'espressione è sempre uguale ma A con F è definita in modo diverso tutte le volte perché dipende da qual è la quantità che è considerata come ingresso e qual è la quantità fisica che è considerata come uscita la resistenza la resistenza di ingresso se vi ricordate dipende dal tipo di inserzione quindi possiamo dividere in due blocchi nel caso di inserzione serie veniva Ri più R o beta per 1 meno beta A con E quando RS è nullo questa è l'espressione che abbiamo trovato nel caso di prelievo di inserzione parallelo invece veniva Ri parallelo R o beta diviso 1 meno beta A con E calcolato per RS che tende a infinito perché mettevamo un generatore ugualmente in Horton vedete di simmetria 1 meno beta A sta nel caso di inserzione serie a numeratore nel caso di inserzione parallelo a denominatore invece ora qui si apprezza male perché sono alternate quando faccio il prelievo influenzo soltanto la resistenza d'uscita ok perché vi ricordate com'è la situazione se ho un prelievo di tensione la resistenza d'uscita viene abbattuta del fattore di reazione quindi ho Rout parallelo a re beta diviso 1 meno beta A con E calcolato per RL che tende a infinito quindi a vuoto e questo vale anche qua stessa cosa no perché ho di nuovo anche in questo caso l'inserzione di scusate il prelievo di tensione quando invece il prelievo di corrente il fattore di reazione va a numeratore e quindi mi viene una cosa tipo Rout più R i beta che moltiplica 1 meno beta A con E per RL uguale a 0 e sotto uguale ok questo di fatto riassume tutte le cose che abbiamo visto giusto per concludere questo punto a questo livello è tutto uguale no le uguaglianze a questo livello di A con F RIF Rf sono parzialmente apparenti per il fatto che poi i parametri delle espressioni non sono definiti nello stesso modo ok va bene quindi per oggi abbiamo fatto